E poi direi, e dirò, e tu, ancora, e noi, ancora, e lei un'altra volta fra noi, fra noi, fra noi, o prima o poi. E poi, poter accadere, sai, si può scivolare, se così si può dire, questioni di cuore. Ah, pensi da stupendo, lascio un poco strisciando, si potrebbe trattare il mio sogno d'amore, nel mondo di me. E questo è l'ultimo brano per questa sera, da parte dei Fono Nazionali. Ha suonato, per voi, al pianoforte, Marco Piani. Al basso, Marco Mangelli. Alla batteria, Eugenio Mori. Io sono Paola Zeni. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.